La gente ammutolisce. Lui preme leggermente i talloni sul ventre del cavallo, tira le redini a sinistra e se ne va. C'è un ragazzino che lo rincorre. Dark! gli urla. Ehi Dark! Lui non si volta. Continua al passo in direzione del fiume. Dark! Ehi Dark! Dove vai? Dark non si volta. A dormire, dice piano. Musica. Pulso evo! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.